Salve a tutti! Buongiorno, buongiorno Abbiamo una nuovissima serie che andrà in parallelo con altre mappe di minecraft perchè sarà abbastanza lunga Ma veramente tanto lunga Su Techit Quindi tutto il Technic Pack che comprende IndustrialCraft, BuildCraft, Exchanger, RedPower più altre mod minori Cioè, è veramente una quantità di roba che non ha senso sono 18 pagine di too many items Non è vero, sono 39 da me Inizio 18 Bene, mettiamo come al solito raccogliendo il legno Quindi, abbiamo deciso che il nostro obiettivo sarà creare una fabbrica di diamante che si basa sulle quorri, quindi costruiamo delle quorri che stragano roba dalla terra e che vengono convertite tramite Equivalent Exchange Inche perché non lo sapesse converti qualsiasi materiale in qualsiasi altro Si, imparare povere Praticamente è una moto sull'alchimia Esatto Noi troveremo il modo di fare una fabbrica di diamanti e da lì puoi andare avanti e ottenere i tempi fighi e fantastici di Equivalent Exchange Se riusciamo, perché non ho capito quanto è buggato se sono io che sono ritardato proveremo a alimentare la nostra fabbrica con un rettore nucleare che esploderà in modo inevitabile Lo sai anche tu Altrimenti alimenteremo in altri modi con energie alternative No, no, no Allora, noi il rettore nucleare dobbiamo farlo per forza Eh, ma non so se va Dopo che sarà esploso i nostri ingegneri ci avranno detto Era in pericolo Ma noi avremo comunque per il profitto continuato a farlo funzionare Dopo metteremo sui pannelli solari Giusto Bene Allora, Mattia, occhio agli alberi quelli Iniziamo a farci un equip base Come dicemmo Dissimo In un'antica puntata è un'ottima simulazione della realtà Esatto Ora, il seed, se vi interessa, è Jeb Why this game is so bugged Quindi se volete giocare questa stessa mappa Il seed è quello Ah, Mattia, gli alberi qua di gomma Non spaccarli che Non spaccarli che Quali sono gli alberi di gomma? Ah, questi qua sono questi qua brutti Adesso come si faceva il tritapp Così, ecco Sono questi qua Grigi, tipo Sì Quelli con la cosa in cima E' vero Sì, è vero Su quelli grigi Ma, il seed è fast fast è veramente un test fast Penso, si chiami così Lui, no? Come i nicknay, non so Tieni a te No, ma non l'ha fatto tutto lui questa texture Ah, ok Ci hanno fatto tipo altri Credo Come si fa a attaccare a un albero? 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 Cicclicchi destro se deve esserci il coso giallo super alberto di tronco Ah, no Ah, eh Ah, i tini tutti i semi che da opposiamo il legno di quegli alberli come legno e... In più ci estraiamo anche la merda Sto estremendo tutto quello che trovo Bravo Beh, la funzione è assente a primo sbaglio No, sono funzionato così questa cosa No, sono funzionato così questa cosa Ci sono anche sotto le foglie la resina Sì, in che senso? Sul tronco sotto le foglie? Sì Eh, sì Eh, potrebbe anche tipo cadere dalle foglie credo, non lo so sicuro Ah, bene No Vabbè Ok Ok Ok, allora Ah, ho provato un alcolico che è oltre ogni immaginazione Che sarebbe Che sarebbe? Il datura... un infuso di datura stramonium E' una pianta che nel medioevo viene utilizzata dalle streghe per ricavare allucinazioni e cose male No No A livelli... a dosaggi... più alti di quanto ne ho bevuto io Da un po' di anestesia tipo, ho un po' più alti ancora allucinazioni e ancora ho un po' più alti morte Però vabbè Dove sei chiesto? Eh... Ma... Sì Però non so, è tipo una sensazione di unione con l'universo che è molto bella Vieni qua Sono anche se sia legale Vieni qua unione con l'universo su L'infuso di radici Hai fatto l'universo tu Ah, ecco perché già era la metà degli oggetti, 24 pagine Allora ho ancora scritto il re nella ricerca sotto Ah, ecco il Vabbè, per avere 4 sono, sono 32 Quei già estratto da quello che c'era Eh sì, non trovo altri alberi Qua c'era un altro Dove? Due lo prese Qui c'è resina C'è resina C'è resina C'è non ho capito... non ho capito dove è andata Ma prese io Ah, forse un po' baggato Ma ho sette di resina comunque Vabbè, hai anche già preso tutti i sapling di con gli alberi se ne ritrovi Se ne ritrovi Non sono venuti giù Che sfiga Cosa faccio a prendere il legno? Eh... Sì, se vuoi prendere il legno, sì C'è legno come un altro Un legno come un altro Un legno come un altro Ma ricresce la resina sul suo scopo Eh... no Ah, però esplode via dal dal legno quando lo... Ah, quello si Ah, quello si Barberwood Si Si È... c'è un... con un macchinario particolare poi estrarre il... Quainque Estrarre dai I La Ravewood Dai Sì Beh Mondo giù un po' a segnalare sapling Ma è solo venire giù troppo, ci passiamo di nuovo Qui era in fondo Molto bene Eh... Bacco Ha stato un liquore fatto in casa in cuore sopra l'alcolico quando in casa era una vecchia tradizione ferrarese praticamente è grappa con lasciato ad infondere un'arancia tutta buchellata da dei chicchi di caffè quindi è molto buono tiene un sapore d'arancia e il retrogusto lascia il caffè esattamente ieri sera se non fosse inizio quando frittelle di baccala in salsa di fagioli neri tortelloni radicchio e salsiccia alla zingara petto d'anatra caramellato con fagioline carote altimo ma il mio padre cioccolato e cannella almeno davanti lo scef lo scritto allora se mi sto perdendo cosa facendo io sto cercando altri alberi ma ne trovo ok vabbè quindi vieni qua dove sono io che c'è legno c'è una grotta e c'è m e anche un certo vicino in cui questo è stato vicino perchè c'è un po' trovato un altro albero di home era fatto un sapling e di quelli lì se rompo direttamente tronco di giri viene fuori la regina non lo so io penso di no se non avrebbe senso che ci fosse un tritato è stata prestita sempre lo stesso tronco in realtà credo che dopo un po' rispondi però non so se beh anche io altrimenti ci si può le pecore no? si vieni da mangiarle alla fine non l'ha non l'ha fatto le pecore potevano rimanevano in giro anche prima che gli ricrescesse la lana si sai eh eh che jeb jeb imbecille e così però non vale lo stesso perchè ha fatto questa mod quindi se rimane lì in legno e se esiste con l'oggetto sicuramente ricresce probabile vero è un imbecille che vado a sta mostra sì ma credo di sì perché ultimo modo che c'è un giocato mi sembrava mi sembrava la foresta dove sei finito tu? mi sono perso nella foresta chiaramente oh cristo santo vabbè ho vero ehm vediamo sto risalendo nella foresta dovremmo anche stare in treno in una grotta a fare qualcosa prima di notte sai non avviene anche cibo con l'ambi mortali c'è un lago gigante qua si non c'è un lago gigante eh sono dal lago gigante sono anch'io al lago gigante quanto sei dal lago gigante prese andrò a vedere la visione diversi se questo è tra l'altro è un gigante non vai dal deserto indigo flower e al deserto lo vedo il deserto e qua vedo degli alberi le fogliate un c'ho maiale tra un maritale con un altro e tu sulle foto di lupi c'è visto i litiardi di lupi c'è una mela che ho visto mia mela che ho visto ciao mi ha attaccato questo lupo cazzo vuoi vai vedi che c'è una grotta vuoi che ci avventuriamo qua c'è una grotta anche qua che non so cosa c'è è la stessa per la stessa non so se si sa ma la mia del suo alberiamo un cazzo per far luce non ci serve vieni giocattia dai non vogliono ci organizziamo non vogliono non c'è nulla da me video setting brightness non c'è niente bene allora aspetta boh prendiamo un po' di pietra e poi facciamo delle fornaci e sciogliamo il legno sciogliamo ehm si si sciogliano robertri sapling o 3 io ne ho 2 un'altra tra un posto su dove stabilirci il piatto possibile ci facciamo una bella zona produzione che va beh facciamo un contorno quello che facciamo successivamente più un'abitazione tra un posto figo posto di essere un posto a caso ok guardiamo lana non possiamo andare a fare andare avanti e che cosa facciamo adesso di notte giriamo chissà se è normal no no dovrebbe essere normal ma dovrebbe essere scusa no no non so se c'è spawn mob falls però non mi sembra se voglio mettere piano schermo vai tra poco a rip mob mob ehm c'è spawn mob falls vero ah no eccolo lì c'è uno scherzo no sono molto pochi nel deserto oh ce l'ha fatta io sto c'è un crib e sto guardando cosa c'è qui vedi qua sono delle pizze di petrolio vieni in qualsiasi dove tu sia come nel deserto qua capa pacco e scusa va vedere l'altro giocatore ehm c'è il petrolio eh lo so te lo detto anche dei mob dove c'è il petrolio ci sono dietro mattia ah siamo alla merda eh cominciamo a attaccarci c'è una giungla ci sta vedendo la giungla c'è un vulcano là eh facciamo vedere il basalto dal vulcano tutto figo il basalto da il vulcano che non lo vedo perchè non ho ancora caricato un po' di chunk seguimi ti sto seguendo perchè stiamo in acqua perchè quella è la direzione e in acqua non ci sono gli scheletri aia il mezzo per il pito uno scherzo no ah no non c'è un vulcano tommi scherzavo ero su un'area nera no è diventata luminosa mio dio dove possiamo andare ma tiè non lo so teniamo qua nel deserto se non trovo ma i vulcano che tu sappia si ah questo è una caso sulla peniccia di vulcano è una pessima idea che ho sconuto in mente come rotta no con la lava grazie a casa succede esplode tipo che tipo il vulcano è a scudo ci sono tutti i tipi ah si ma che figata vieni qua ciao ok ho che so che per l'acqua della lava di qui c'è dell'altra qui c'è il fiore si c'è una piara c'è messi vicino alla lava e ma guarda la mappa sono dei quadrati ciao sono un pozzo di lava ma se c'è qualcosa qua intorno non mi piacciono i deserti c'è un metro vicino da fare un deserto perché? non so sono un buco se ne sei anche il deserto o lento se non è che cambia però mi trovassimo uno di quei costoni di redi di rocce sabbia sono bellissimi mi trovo veramente stupendi cosa c'è la di nero ma c'è una semiforesta guarda perché non c'è a piantare gli alberi quindi un casino se nello stavolta del testo stanza vieni qua a provare l'anno in l'acqua cosa c'è devo salire questa cazzo di o sera la l'altra la pozzo grande quello che non vedo sembra cosa nera l'altro petrolio oh sto morendo di fame ho trovato l'altro petrolio buona mela ho dato una cosa di carne cruda non so per quanto sopra più sta carne cruda c'è altro petrolio qui c'è un sacco di roba io mi metterei in quella pianura che c'è lì subito oltre al deserto sul fiume no quale lì guarda io sono guardami in qualschina sa che non ho lì assi spostare e poi lì certo e sportiamo il deserto e allora facciamo stiamo quasi guardiamo attorno oh c'è cosa c'è una uno scherzo su un ragno non metti io sto ingroppando come questo dovremmo fare due cose sopravvivere e sopravvivere esatto quanto ci vuoi? poco due mebracciare di migliare cuociamole cuociambole lo fai tu la fornace? ok bene la idea è che il interesse è questo non è un rupple c'è una Grazie a tutti.